Buongiorno, sono Stefano Parma Benzionati e io sono Giuliano Maino. Vi aspettiamo il 26 novembre a Firenze per il prossimo congresso internazionale Perio Florence Group che si terrà in quel di Firenze il 26 novembre. Sarà un incontro estremamente interessante da un punto di vista clinico. Il nostro argomento sarà l'utilizzo della chirurgia piezoelettrica nei casi ortodontico-perodontali. Quindi vedremo la soluzione di casi borderline dove l'associazione di queste due specialità permetterà di risolvere brillantemente alcuni casi. Mi raccomando, non mancate Firenze il 26 novembre. Vi aspettiamo. Tutti!